Senza parole ti scriverò una canzone che tra di noi racchiude le mille incertezze ma sono sicuro ti piacerà Dare la possibilità a fan e investitori di entrare nel mercato discografico e in quello delle royalties in modo semplice e sicuro è l'obiettivo che si pone Enote Music. A spiegare che cos'è e come funziona questa innovativa piattaforma europea è il CEO e cofondatore Marzio Schena. Noi democratizziamo l'accesso agli investimenti in musica, quindi diamo la possibilità a chiunque che siano fan o investitori di investire nella propria canzone preferita e di ricevere royalties come se fossero artisti, come se fossero dei partner della propria canzone preferita. Enote Music sta suscitando molto interesse nel mondo della musica. Tra gli artisti in piattaforma ci sono il Zero Assoluto che sono entrati a giugno del 2021, quindi qualche mese fa, le vibrazioni che sono stati i primi a livello mondiale a quotare, a dare la possibilità agli investitori di investire nei propri diritti di immagine e il primo catalogo che abbiamo messo in piattaforma è di Irma Records. Si investe connettendosi alla piattaforma o attraverso app, si identifica un catalogo e si acquistano delle quote in fase di asta, quando per la prima volta i diritti vengono offerti al pubblico o da altri utenti, poi si ricevono i dividendi. Il vantaggio per l'artista è l'accesso a una nuova forma di monetizzazione al proprio repertorio, così come a un nuovo canale di visibilità o di engagement con i propri fan. Per l'investitore si tratta di una possibilità di diversificazione del proprio portafoglio, così come di prendere contatto con un lato un pochino più motivo dell'investimento. Tutto questo in trasparenza e sicurezza, grazie alle tecnologie della blockchain che consente la tracciabilità degli investimenti. Non si tratta di un sistema borsistico, si tratta di un mercato, quindi di una piattaforma nel quale hanno la possibilità di partecipare utenti da una parte e aventi diritto dall'altra, che funziona come un meccanismo di unione tra domande e offerte. L'idea di base è quella del give back, ossia la possibilità per un artista di ridare qualcosa indietro ai fan e farli partecipare al proprio successo futuro. Se volessimo sintetizzare al massimo i Note Music, ami una canzone, ami un repertorio, vai a supportarlo e nel corso del tempo chiaramente ne trai un guadagno. A oggi il totale raccolto supera il milione e mezzo di euro, ma i Note Music prosegue nel suo percorso di crescita e ha nominato Matthew Knowles, produttore e padre di Yonse e Carlo Antonelli, senior advisor del board.